ciao perfetto come stai bene 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 buonasera a tutti e bentornati ai nostri appuntamenti di quattro chiacchiere con oggi ospite con noi eric zoo direttamente da rimini da rimini dalla romagna allora eric innanzitutto dici un po chi sei cosa fai che poi andiamo a chiacchierare in maniera più dettagliata perfetto allora buonasera mi chiamo appunto eric sono un ragazzo cinese nato a cattolica quindi nella bellissima romagna io studio alla caposcari università di venezia e faccio la magistrale in traduzione per editoria quindi lingue cinese inglese a treviso ha un corso bellissimo che sto per portare a termine appunto quest'anno quando dovresti laurearti io programmato per luglio 2021 perché appunto farò prima uno scambio a pechino nella capita normal university quindi andrò se ecco cobit permettendo a marzo più meno periodi marzo andrò a pechino e starò fino a luglio per poi laurearmi preparati portati sali minerali perché farà un caldo creme tremendo mamma mia non metta misa ansia conosce che chino no no sono stato ma d'estate solo d'inverno l'estate non ho ancora non ho ancora provata è un po fa un po caldo ecco e mi raccomando cerca di trovare una una camera una stanza che abbia il condizionatore perché sennò andare avanti col ventilatore leggerà in con quelle temperature lì ora che lei che ora che hai detto si si fa una richiesta ma sarà una richiesta primaria ma ci vai come studente straniero eric la sì 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 allora è probabile che tu abbia la recondizionata anche se c'è sempre poi il discorso è un po particolare appunto lao wai mica tanto lao wai per chi per chi ci ascolta e non ha presente di che cosa stiamo parlando lao wai è il termine con cui in cinese con cui si indica in maniera generalizzata uno straniero è composto dalla parola lao wai che sarebbe vecchio vecchio esterno però questo lao che di base vuol dire vecchio ha un'eccezione un pochino più friendly per cui è sarebbe un'idea di compagno al vecchio che viene dall'estero perché vai e vai mien e quindi è qualcosa di esterno quindi lao wai è un termine generico per indicare lo straniero diciamo che le scenette buffe di solito che capitano sono tu che passeggi in cina e dicono la wai così come se come se fosse va bene sono uno straniero ok va bene però non c'è niente di discriminatorio è semplicemente un intercalare e ci sono invece altri termini che sono un po da presa in giro un pochino più offensivi però questo è quello generico qua ren è l'idea invece di qua ren è l'idea appunto di persona di etnia cinese in realtà c'è un po di un discorso più ampio su quello che è l'idea del cinese d'oltremare che sono i fai o faccia però magari questo lo affronteremo in un altro in un altro discorso cosa stai facendo di bello adesso in questo momento sì allora in questo momento io sono partito stamattina svegliato alle cinque per andare a bolzano un paesaggio spettacolare con dei miei vecchi colleghi di valentia lavoravo nella sì sì nella boutique di gucci e ho avuto come ho avuto rimasto un buon rapporto con i miei ex colleghi siamo andati tutti insieme all'asse con se neanche l'asminuto improvvisato c'è uno di noi è venuta così la lampadina e siamo partiti allora che raccontaci un attimo invece allora noi ci siamo conosciuti apriamo il siparietto io eric ci siamo conosciuti in maniera casuale e dir poco perché quest'estate ero fare un weekend lungo a rimini e il mio io il mio ragazzo abbiamo affittato delle biciclette facevamo dei giri in bicicletta intorno appunto alla 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 città e neanche io perché ovviamente sopra pensiero ma il mio ragazzo si accorge di una associazione interculturale italo cinese ovviamente non potevo farmi scappare questa questa opportunità metto il naso dentro e da lì conosco eric e vabbè a parte il mio sproloquio totale perché poi come sapete bene quando mi accendo è difficile spegnermi e dai appunto avevamo conosciuto eric e la sua realtà vuoi parlarci un attimino di quello che è la dimensione cinese italo cinese animini allora tanto parlando dell'associazione appunto si noi siamo a rimini con i miei genitori la mia famiglia da più di vent'anni quindi all'interno facciamo sia corsi di lingua cinese oppure esprichiamo pratiche per magari ecco i cinesi che vivono nei rintorni che magari hanno bisogno di una mano per la lingua e per appunto brigare le pratiche burocratiche a per quanto riguarda la dimensione italo cinese io la vivo in prima persona penso che principalmente allora personalmente l'ho vissuta molto bene perché avendo fatto sin dall'asilo tutte le tutte le scuole qua a rimini mi sono inserito abbastanza bene ecco mi sono inserito anzi posso dire pienamente con diciamo che con la cultura italiana e con tutto il mondo ecco italiano secondo me come come persone qua sono molto molto gentili e open minded quindi molto aperte anche di mente quindi diciamo che situazioni particolarmente negative non le ho mai subite le incontrate ecco ho capito vai pure tu con una domanda stavo facendo vedere un attimo le news sulle donazioni delle macchine che avete fatto questo inverno avete regalato donato più di 15 mascherina vuoi raccontarcelo perché mio padre in pratica presidente dell'associazione di questa associazione italo cinese commercio adriatica e appunto con l'aiuto anche da parte delle parti cinesi diciamo che abbiamo sempre riusciti a fare delle donazioni anche con tutta l'associazione i membri che ne fanno parte è stato sì un gesto un simbolo che abbiamo collaborato anche appunto con san marino che appunto sì diciamo che era un dovere farlo per noi certo sicuramente si sono state sono sono iniziative che dovrebbero comunque dare un segnale poi c'è chi il segnale lo recepisce c'è chi invece non vuole recepire però sicuramente è stato un gesto ammirevole eric una curiosità tu che ruolo hai nell'associazione poi cosa cosa svolgi visto che sono molto curioso io ve lo dico appartamente sono fuori dalla diciamo che la seguo dall'esterno perché diciamo che sono uno studente poi sono stato molti anni a benessia quando hanno dei bisogni magari posso dare una mano ma ripeto molto dall'esterno quando capitava insegnavo anche la lingua italiana ai ragazzi che venivano da poco dalla cina sempre all'interno della situazione e lo stesso per i ragazzi italiani che erano appassionati per la lingua cinese basilare ecco cercavo di farli appassionare nel mio piccolo e da qui nella domanda infatti sui tuoi progetti futuri nel senso che tu ci hai spiegato il percorso che stai che stai facendo a livelli di studi ma poi e poi ieri che cosa vorrebbe diventare a se a me piacerebbe insegnare a tutti gli effetti sì sì ma insegnare cinese sia cinese per l'italiano magari quello basilare anche a livello accademico se un giorno ci arrivo oppure appunto italiano alle persone cinesi mi piace mi fa sentire sì particolare appunto svolgere questo ruolo da ponte per le due culture parlaci di più di questo ruolo di ponte da da che cosa nasce da come mai questo desiderio di di voler cercare di essere un ponte che un'immagine bellissima che io utilizzo spesso in realtà io mi ritrovo sempre più o in quello o ogni tanto faccio l'esempio del tubetto di colla però il ponte diciamo che poetica come immagine e raccontaci un po di questo tuo desiderio sì diciamo che ecco anche se prima raccontavo che diciamo che io ho vissuto personalmente e mi sono integrato molto bene nella società appunto nella cultura italiana comunque penso che ancora oggi ci sono anche alcune situazioni o anche alcune circostanze che in cui molti le due culture vanno ancora a scontrarsi direttamente ecco anche nel senso negativo quindi spesso non ci si comprende spesso non ci si conosce spesso ecco si giudica già dalla superficialità dalla superficie dell'iceberg quindi secondo me se riesco a nel mio piccolo poter far conoscere anche un pezzettino di questo grande tassello a una persona in più secondo me ecco posso posso fare la differenza perché secondo me io esatto con l'ambiente in cui sono nato e le mie circostanze chi più di me potrebbe farlo questo ruolo se non io faccio un po il curioso io sono molto pettegolo ma a casa cosa ne pensano i tuoi genitori anche i tuoi amici i tuoi coetane visto che sei giovane hai 25 circa anni riguardo al mio ruolo da ponte quindi tra le due culture il tuo futuro lavoro che vorresti fare cosa ne pensano diciamo che sono molto mi supportano ecco non è indifferente perché innanzitutto ecco è un lavoro comunque dignitoso ecco anche per i genitori tradizionali cinesi diciamo quindi già quello ecco toglie tante barriere secondo me tra me e loro sì diciamo che si sia adesso quello che si osserva forse è una maggior comprensione da parte dei genitori dei desideri dei figli e il fatto anche che i figli vogliano impegnarsi per cercare di migliorare una situazione che loro non avevano tempo di a di di prendere in considerazione perché c'erano altre esigenze quindi quella di trovare un lavoro di di guadagnare di avere una quindi una stabilità da poter offrire a chi viene dopo quindi sicuramente il fatto che tu abbia il supporto da parte dei tuoi genitori per una per un'attività che non rientra nella casistica classica del cinese di seconda generazione che tendenzialmente è la vendita piuttosto che la ristorazione penso che sia veramente un segno di cambiamento cosa ne pensi a certo ma infatti mi sembra ecco che i miei genitori sono ecco si siano un po differenziati anche dalle diciamo dai dalla maggior parte delle famiglie di prima generazione che sono venute in italia uno perché appunto sono qua da quasi 40 anni ecco forse questo li ha influenzati quindi ecco hanno subito molto della parte della cultura italiana e poi sono molto mi lasciano molto fare ecco mi lasciano decidere a me sono dei genitori abbastanza flessibili elastici che appunto ecco mi danno il potere decisionale a me quindi questo lo sento e lo vedo quindi ecco mi sento anche molto grato per questo interessante interessante sono sempre pettegolo scusami eric giusto per capire il background cosa fanno o facevano i tuoi genitori di lavoro e poi sei fratelli e sorelle più grandi più piccoli giusto per inquadrarmi mia madre diciamo che da più di decenni ormai che a questo ufficio che appunto un'agenzia affari che appunto sbriga queste pratiche burocratiche quindi rinnova il permesso di soggiorno sul passaporto c'è un obiettivo di aereo per la cina per i cinesi che sono qua e magari appunto quindi una specie di tramite e poi svolge anche il ruolo di interprete quando ha bisogno per la questura tribunale ecco in questi settori invece mio padre appunto sì sì mio padre appunto è presente in questa associazione con più di quasi 25 anni ormai e quindi anche lui è sempre stato uno che si è lui si definisce si autodefinisce il marco polo del ventunesimo secolo quindi anche lui appunto questa ecco si sente questa missione di appunto cercare di ravvicinare i rapporti che abbiamo tra questi due mondi completamente diversi beh allora è una tradizione di famiglia stai portando avanti in maniera contemporanea una tradizione di famiglia possiamo dire esatto nel dna un po molto bene invece proprio perché poi ritornando un po al ruolo al discorso del dell'essere ponte facendo ovviamente una visione di più ampio respiro tu come vedi la situazione qui in italia appunto per il discorso della vabbè adesso ci sono stati diversi episodi positivi e negativi lo sappiamo cioè chi ha avuto quando c'è stato il momento purtroppo del inizio del covid in cui c'è stato una pesante un pesante movimento e critica nei confronti dei senti immotivata dei cinesi residenti qua in italia contro i cinesi residenti qua in italia fortunatamente in risposta c'è stato una in realtà una un desiderio di dimostrare maggiormente quanto questo quanto questa dimensione in realtà si senta parte del contesto italiano perché lo è effettivamente lo è tu come vedi come personalmente senza entrare troppo nel dettaglio ma qual è la tua sensazione a riguardo allora la prima cosa che mi viene in mente è che personalmente penso che diciamo che i cinesi quando possono e se possono rispondono sempre con le buone con le morbide quindi ecco se una cosa si è possibile ed è conciliabile senza diciamo scontrarsi si cerca sempre di ecco percorrere questa strada e quindi sono a me sotto questo punto di vista dove appunto i cinesi hanno sempre mantenuto ecco in un certo grado di rispetto verso la cultura italiana penso che sia molto vignitoso e che anche molto saggio diciamo perché è un modo di fare che sento abbastanza nostro ho capito quindi appunto anche personalmente se fosse se fosse adatto sul vado risvolto a me avrei fatto più o meglio lo stesso ho capito forse una cosa in grande ma esatto però comunque confermi quello che in realtà è stata poi la linea adottata riprendo la vecchia domanda amici e se hai sorelle o fratelli perché vuoi capire bene il contesto se sei più grande il più piccolo perché una famiglia cinese è molto importante infatti io sono il medio di tre fratelli che siamo siamo in tre quindi ho due fratelli il più grande è riccardo e adesso ha un'azienda a yanzhou in cina vicino a nanchino di import export e lui è molto particolare perché ha deciso di ho voluto di esportare il made in italy in cina bello diciamo ecco sì esatto diciamo che fa il giro contrario di tutta la maggior parte appunto degli imprenditori che vediamo ecco al momento poi matteo ricci al contrario esatto matteo ricci al contrario sì invece mio fratello piccolo e ricco da poco maggiorenne un 2001 classe 2001 quindi ecco si ha finito le scuole da poco e quindi tre maschi tre maschi siamo botti da orbi allora vabbè la mamma sarà impazzita tutti tutti i cocchi di mamma sì 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 impazzita 20 anni fa wow beh papà sarà stato molto contento di avere tre maschi speriamo sì sicuramente adesso si scherza però indipendentemente maschio femmina i percorsi che tu al momento tu e tuo fratello state prendendo sicuramente sono sono degni di ammirazione grazie grazie il più piccolo ha già progetti lui sì diciamo che mi dice è abbastanza introverso come persona però molto molto intelligente ha già iniziato a studiare programmazione nell'ambito dell'informatica ecco mi sento di dire che secondo me anche molto portato in questo settore e poi sta entrando anche ecco sta iniziando a imparare anche il mondo del trading con gli investimenti finanziari della finanza eccetera quindi sì sì una bella testa deve essere concorrenza per me anche se lo vedo bene però la finanza non la faccio per fortuna è molto complicato le regole del mercato intanto il cappello il vostro livello di cinese di voi tre come siete messi tutti senti madrelingua oppure l'ha imparato dopo il cinese diciamo che a casa sin da quando eravamo piccoli parliamo poi dipende mio fratello grande sin da piccolo prima parlava magari mandarino a casa che anche il dialetto magari mentre io ho parlato e parlo ancora soltanto il mandarino con loro quindi allora il fatto di sentire madrelingua o meno beh diciamo che rispetto all'italiano sento personalmente di avere tante lacune nonostante penso di avere un cinese che sia ecco magari poco al di sopra della media dei cinesi si piuttosto come 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 ti relazioni come ti rivedi in questi gruppi questa è una bella domanda si in pratica allora fatti le pesce di solito però infatti quando sto con la mia compagnia di amici italiani magari in alcune cose ci sentiamo ecco mi sento leggermente fuori e strano e la stessa cosa vale per magari i cinesi cinesi che appunto hanno vissuto parecchi anni in cina e soltanto appunto con diciamo generalizzando soltanto appunto con le con il gruppo e con la comunità ibc che è appunto presente in italia mi sento ecco non dico completamente molto molto compreso diciamo sia come per le circostanze che abbiamo vissuto e sia per il nella nostra vita su ibc quindi ti sento a tuo agio quindi ma quanti amici hai di ibc tecnicamente ibc quanti più cinesi italiani ah ma li posso contare solita di una mano ecco meno di meno di poco perché uno perché a Rimini c'è una piccola comunità appunto abbastanza ristretta di ibc magari sono più concentrati nelle città più grandi ovviamente i tuoi parenti sono però ecco infatti ecco quando ne incontro uno sì i tuoi parenti dove sono sono in italia o in cina? loro sono tutti allora tutti emigrati all'estero mia madre da parte mia mamma mia padre mio zio sono qua in italia mentre altre sorelle di mia mamma sono in germania poi la mia nonna mi è rimasta solo una che è quella materna e lei adesso appunto se non da sola abita con noi a Rimini ho capito quindi siete un po' sparsi siamo un po' sparsi un po' qua un po' in germania ho capito ma quante volte torni in cina? torni abbastanza spesso? molto spesso ma senza una frequenza magari molto ben precisa può essere ogni due anni di solito oppure per un'occasione speciale che può essere magari il 4 aprile che è appunto la festa dei morti in Cina come ho detto Cimincie oppure diciamo per quando ci sono le vacanze invernali appunto di Natale quando abbiamo la prima occasione ecco però contando tutte le volte penso una decina forse un po' di più ah tante io più o meno ne ho fatte 5-7 quindi solamente tante 5-7 ah ok ok ti ho superato eh sì giovane più brillante ecco anche tuo fratellino comunque sì diciamo che però comunque sia ogni volta che torni in cina ecco non avendo né parenti e né ecco un gran numero di amici diciamo che ecco mi sento abbastanza turista anche io nonostante fosse cinese nonostante sia cinese era proprio la domanda che volevo farti nel senso quando quando torni in cina effettivamente hai hai un ritmo nel tornare in cina che è più alto di tendenzialmente anche dei miei amici che conosco era proprio quella domanda c'è la tua percezione quando sei lì no perché comunque quando vai quando vai in cina conosci gente sieni con loro pranzi con loro esci con loro e sia per il modo di pensare sia per le abitudini diciamo che ti senti comunque sia in certi momenti abbastanza fuori dalla cerchia ecco perché io ero mio fratello e comunque facevo davvero fatica a integrarmi qual è stata la difficoltà più grande che hai incontrato è stata più di schema mentale o linguistico? ah più più mentale che più reale diciamo è il ritmo che è difficile da seguire sono troppo frenetici e non è una parola che si dice per dire ma davvero è una cosa che se tu davvero vuoi ci vivi ti accorgi che è appunto una cosa vivibile secondo me per uno che è stato diciamo coccolato nel mondo italiano con un rito lento e armonioso la dolce vita nella zona geografica giusta esatto esatto ma ecco qua scatta la domanda preferisci il cibo cinese o il cibo italiano? tieni presente dove ti trovi? lasagna vita ah diciamo che ti piace vincere facile non c'è paragone secondo me diciamo che non c'è non c'è che ce ne sia una meglio ma perché sono tutte e due ecco il primo posto nel mondo secondo me concordo concordo con cibo beh dai dici il tuo cibo cinese preferito a sto punto così facciamo parco un digio ah allora qua a Venezia tipo un piatto che non che non posso non prendere tipo un saorou un saorou è la pancetta rossa giusto? che prendi anche in Cina che prende in Cina certo è la pancetta sì che è veramente rossibile ah ok sì sì la parte della cotenda la pancetta c'è anche la pelle con questa spezia che c'ha che c'ha stella d'anice l'anice stellato scusami sì sì tante spezie tipiche molto spezia si vede che stiamo avvicinando l'ora di cena perché stiamo cambiando argomento ah ma su cibo si può parlare per ore esatto si potrebbe veramente parlare per ore di cibo assolutamente Wen avevi un'altra curiosità? eh io ho l'ultima domanda se vuoi farne un'altra a te per riempire ah ok così andiamo dritti dritti a cena Erik la domanda che faccio a tutti mi raccomando pensaci non aver fretta come ti sento come ti immagini te fra dieci anni dove sei cosa farai con chi sarai se in Italia in Cina all'estero dove ti pensi di essere fra dieci anni? allora mi immagino già bello sistemato perché avrei la bellezza di 30 poi 35 anni comunque sistemato quindi in termini diciamo professionali perché spero di raggiungere appunto i miei obiettivi quindi spero di trovarmi o in una scuola secondaria secondo grado oppure in un'università oppure in un istituto ecco ecco sempre del settore poter insegnare e mi immagino in Italia immagino in Italia perché diciamo che nonostante tutte queste prove non mi sento ancora pronto diciamo di affrontare e di competere con i super cinesi si forse non ce n'è neanche forse non ce n'è neanche la necessità Erik eh esatto esatto perché se uno sta bene se uno fa il lavoro che gli piace sta bene con se stesso a volte non c'è bisogno non c'è la necessità di dover avere altri parametri anzi forse è proprio quella che la dimensione che bisogna cercare in un mondo dove tante volte è la un'ansia di dover sfondare di dover dimostrare qualcosa quando in realtà molte volte la si vivrebbe meglio cercando nel possibile di realizzare quello che che si vuole e non quello che si vuole non deve non deve essere per forza un passaggio sì 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 no coincidente comunque con un discorso di io voglio fare broker per spaccarmi i soldi nel senso che l'ho detta l'ho detta in maniera brutale senza offese per i broker per carità hanno dei nervi che non avrei mai però l'idea diciamo che l'idea di felicità ognuna ogni persona per ogni persona è diversa quindi d'accordo poi diciamo che facendo un'autoanalisi sarebbe penso che sarebbe quello che più compete a me e più mi piacerebbe fare ecco nel mio nel mio nel mio essere adesso faccio una domanda birichina perché hai detto sistemato ma sistemato anche a livello di famiglia a livello di famiglia no 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 pensavo solo più economico perché sì diciamo che come famiglia sono abbastanza ecco dubbioso su questo perché insomma mi piace magari ecco il concetto di famiglia quindi appunto ecco diciamo che ti sentiresti psicologicamente anche al completo anche a livello sentimentale non è detto anzi io ho fatto una domanda volutamente birichina forse è anche il momento di sfatare il fatto che si debba essere vincolati a creare un nuovo nucleo familiare una persona a volte riesce a essere completo in maniera non dico sì individuale ma a star bene con se stesso anzi forse è meglio cercare prima quello e poi eventualmente relazionarsi col mondo perché se si hanno problemi siamo problemi con noi stessi è poi difficile pretendere di essere a posto al 100% a livello interpersonale non lo è nessuno non è nessuno a posto al 100% però ecco diciamo che è un passo prima affrontare se stessi e poi il mondo quindi non c'è nessuna fretta si poi se vuoi sfatare e pensa che mia mamma mi dice spesso due cose due cose che mi dice sempre e poi del resto mi lascia abbastanza libero la prima cosa che mi dice la prima è non sposarti non sposarti ti dice davvero da una cinese di non ti credo ma questa è una cosa è una bomba dovevamo chiederti subito questo esatto e la seconda cosa non fare figli aiuto ma chi è aiuto ma chi è faccio il sapere se devo censurare questa cosa perché assolutamente ho tendenza a tutto uno schema tradizionale di pensiero orientale che ci stai dimolendo in neanche 30 secondi quindi non sto inventando quindi mamma no no in questa questa conferenza confermami nei commenti ma veramente veramente anzi se ci state ascoltando e vi ritrovate nella situazione vi ritrovate in questa situazione e fatecelo sapere perché sarebbe interessante creare una discussione al riguardo perché è proprio i tempi che non perché ci siano lati negativi e positivi è semplicemente i tempi che cambiano per cui wow nel senso non avere questo vincolo penso che sia da un certo punto di vista è positivo è vero anche lo penso ti lo credo molto bene ma fai un complimento alla tua mamma perché è molto 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 open minded esatto la tua mamma ti vuole molto bene io proporrei un annuncio facciamo chi vuole essere adottato dalla mamma di eric così non si deve sposare che dici già non è pochi di tre guarda ha ragione no ma sai perché lei ti dice così perché poi dopo dovresti dovresti lasciare il tetto familiare dice no è il mio bambino non portatemelo via non ti vuole mettere pressioni è quello il messaggio sottointeso fai quello che ti senti nella vita certo ma meno male ma ci dai una bella notizia eric ci dai veramente una bella notizia i tempi veramente stanno cambiando hai visto sì 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 ma forse guarda molti telefilm moderni in Cina perché ormai l'argomento è molto attuale donne in carriera uomini in carriera molto di moda ah in realtà lei è proprio l'antitecnologia in persona poi se li guardo di nascosto ah beh non ti saprei dire cosa in realtà lo scoprirò chiedi 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 al massimo guarda ci diamo appuntamento per il prossimo anno quando sarai a Pechino perché siamo molto interessati poi la Sara è stata ha studiato anche a Pechino quindi ti può dare qualche consiglio vabbè ma c'è già stato l'inverno comunque Pechino la la conosce figurati poi io ho l'immaginario di Pechino di ormai sette anni fa quindi eh già le cose cambiano da da un anno con l'altro figurati eh tornare a Pechino adesso che cosa i grandi cambiamenti che potrei che potrei trovare anzi ti dirò la verità da un certo punto di vista non ho grande desiderio di tornare proprio perché sono contenta delle memorie che ho e quindi non vorrei doverle rimettere in discussione un'altra volta perché ero una Pechino era una Cina che in quel momento mi piaceva molto preferisco ottenere questi questi ricordi così come sono sono esperienze che consiglierei a tutti di fare indipendentemente che sia la Cina il Marocco che ne so la Lituania sono esperienze che comunque eh servono tantissimo per il proprio per la propria crescita personale un'ultima domanda invece la faccio io in realtà un consiglio una perla di Eric eh per per chi vuole per chi vuole per chi vuole per chi vuole essere un ponte per chi vuole essere un ponte che consiglio che consiglio dai tu per chi vuole essere un ponte allora diciamo che vivi sempre in prima persona buttati sempre in mezzo la gente nel mondo italiano se sei cinese e buttati nel mondo cinese se sei italiano e cerca di illuminarli con il tuo essere già facendoti conoscere per loro davvero cambia un mondo per loro wow basta io non so più basta eh sai proprio quando fai eh kaboom ecco basta possiamo chiudere qui benissimo Eric non ci disturbiamo ulteriormente anzi grazie del tempo che ci hai concesso mi raccomando guida piano eh assolutamente grazie grazie e teniamoci in contatto e Gwen non stava scherzando noi ti andiamo ti veniamo a ripescare fra un pochino eh va bene va bene sono qua da rimini va bene ancora buona serata buon weekend di halloween anche se sarà un halloween un po' un po' meno festaiolo ragazzi continuate a seguirci sul nostro canale perché prossimamente caricheremo altre interviste commenti qua sotto e ci vediamo alla prossima puntata va bene ciao grazie mille grazie a tutti ciao 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 ciao